Bevi. C'è un buco nella maschera. Dopo lì mi pizzicano. Va beh, vai in macchina, Marinella. E non rompe. Che ci faccio io qui? Il Paese delle Meraviglie. Sarà qui? Lei signora è molto bella. Questo per te. La rifacciamo? Selezioneremo solo sette famiglie e la famiglia più impegnata nella tutela del nostro patrimonio anni ci verrà un sacro di sogno. Partecipiamo alla selezione e al Paese delle Meraviglie. Ecco, ci manca questa stronzata. Qui sono anni e anni che non si muove più niente. Forse così si crea un po' di lavoro, viene un po' di turismo. Ma noi ce l'abbiamo un lavoro bellissimo. Vuole fare la contadina? Eh? Eh? Vuoi costruire un muro intorno a lei? Ma non mi posso scrivere? E non ho mai detto niente. Ma che vuoi? Sei bella. Meraviglioso! Un applauso!